Scansionando il QR code si può entrare all'interno di un documento che ci spiega quello che poi troveremo all'interno della mostra. Alcuni esempi delle figure che hanno fatto parte dei giganti di carta pesta e poi una bellissima mostra fotografica. Così si celebra il carnevale più antico d'Italia, quello di Foiano della Chiana, al Val di Chiana Village. Un evento del nostro territorio, del comune che ci ospita, è un evento di eccellenza, è appunto uno degli eventi più storici e più antichi d'Italia. E noi come tradizione ormai lo celebriamo attraverso questa bellissima mostra fotografica, ma anche poi una mostra che racconta l'abilità che c'è in paese per la costruzione dei carri, quindi con delle riproduzioni in carta pesta e poi chiaramente con la mascherata di sabato 25 dove si potranno esibire sia le coreografie ma anche l'abilità in questo caso nella realizzazione dei costumi di carnevale dei quattro cantieri. Quindi è, ripeto, un'eccellenza del nostro territorio che noi da molti anni ovviamente vogliamo evidenziare, vogliamo dargli risonanza. L'Outlet è il luogo ideale per questo tipo di iniziative e chiaramente lo facciamo con grande orgoglio. Come sono stati scelti questi scatti e poi perché anche questo modo di raccontare? Allora, questi scatti sono stati scelti perché sono descrittivi del carnevale di Foiano. C'è una parte cronologica che va dall'apertura degli Uscioni, che è il primo evento che avviene la prima domenica di carnevale ed è quello più emozionante dove nessuno dei paesani ma anche dei turisti conosce cosa c'è all'interno dei cantieri e quindi si passa dalla parte di apertura degli Uscioni fino, in ordine cronologico, alla cremazione del Reggio Condo, che è il nostro re di paglia. È stata scelta questa tecnica, abbiamo cercato di rendere il più buio possibile questa stanza e mettere in risalto i colori vivaci che ci sono all'interno del carnevale tramite queste fotografie retroilluminate e in più ci sono anche delle sculture dei carri realizzati negli anni precedenti che fanno sì che gli avventori della mossa possano percepire la dimensione che c'è tra il carro nella fotografia e il carro reale. Ecco, l'importanza di raccontare una manifestazione come la vostra, anche in un luogo come questo che è solitamente dedicato al commercio ma comunque ben integrato con il territorio che lo ospita. Il carnevale sta andando bene, l'outlet è un punto di riferimento importante, non solo per Foiano ovviamente ma per tutta la provincia e per tutta la regione e quindi è importante che ci sia anche un luogo che parli del nostro carnevale quindi è un'associazione vincente questa. Per il carnevale ci sono le ultime due domeniche, il 5 di marzo sapremo il carro vincitore. Sì, le prime tre sono andate benissimo, sopra ogni aspettativa, non ce le aspettavamo neanche noi perché dopo i due anni di stop per via del Covid dovevamo riprendere un po' anche tutta quella che era l'organizzazione però sono andate davvero molto bene. Ecco, una curiosità, ma perché non ci sono più i personaggi politici nei giganti di Cartapesta? Allora, i temi politici ci sono sempre, forse sono sviscerati anche meglio di quando vi erano proprio i personaggi in Cartapesta con la faccia, con l'immagine del politico però chiaramente anche la politica essendo negli anni diventata molto più veloce, più fluida per quanto riguarda l'organizzazione di un carro, di un tema ci vuole almeno 8-9 mesi di tempo per realizzarlo e quindi 9 mesi di tempo magari uno si fa un'idea di un carro, un'idea di tematica e poi magari è cascato il governo, un politico che ha una posizione e non ce l'ha più e quindi poi dopo ricreare tutto quello con l'attualità diventa complicato. Uno è sicuramente questo, altri motivi sono che la politica viene identificata con altre cose con magari personaggi immaginari, con personaggi di fantasia quindi la politica c'è, non ci sono più i personaggi politici che magari non fanno neanche più tanto glamour o clamore come facevano negli anni 90 diciamo.